Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.